Il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, insieme al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza Francesco Zoccali e al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Sociali, Bruno Calvetta, ha incontrato a Catanzaro i Direttori Generali delle Aspe, una rappresentanza delle strutture sociosanitarie della Calabria, gli enti Anasta, Ares, Uneba, Agidai e Aiop. Oggetto della riunione è il pagamento delle competenze per l'anno 2012 in favore delle suddette strutture. Il Presidente Scopelliti, nella qualità di commissario d'acta per il piano di rientro, grazie al lavoro della struttura commissariale e dei dipartimenti e delle aziende, ha comunicato le risorse destinate al pagamento di una importante parte delle spettanze. L'ammontare complessivo tra la quota sanitaria e quella sociale raggiunge quasi 70 milioni di euro. Questo consentirà la copertura finanziaria del primo semestre del 2012 e di parte del residuo del 2011, mentre in riferimento ai debiti pregressi verrà valutata la possibilità di utilizzare per tali strutture una parte dei 220 milioni di euro di premierità sbloccati dal tavolo massicci, oltre all'impegno di destinare ulteriori somme in sedia di assestamento di bilancio. Da Antonio Sanginiti, Francesco Papalia e Domenica Zucco, assassinati dal crimine organizzato nel 1951, fino alla testimone di giustizia rosarnese, Maria Concetta Cacciola, che soltanto l'anno scorso è stata indotta dai familiari a uccidersi ingerendo acido muriatico, sono stati ricordati e scanditi al suono dei liuti del maestri del Conservatorio Musicale di Reggio, Francesco Cilea, i nomi delle 155 vittime riconosciute dell'Andrangheta, tra cui 11 donne. E questo nel corso di un'apposita seduta della Commissione regionale contro l'Andrangheta, presieduta da Salvatore Magarò, stamattina all'Aula Levato di Palazzo Campanella, una sessione assolutamente peculiare, grazie alla partecipazione dell'Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone. Nei confronti di questi uomini e di queste donne abbiamo il dovere di coltivare la memoria, ha asserito tra l'altro il Presidente Magarò. Dobbiamo diventare il fronte combattente di una resistenza culturale contro corruzione, collusione o mertà contro chi pensa di poter scendere a patti con la mafia. Presente fra gli altri il Presidente del Tribunale Clesiastico regionale, Monsignor Facciolo, ha affermato invece nel suo contributo di riflessione, Monsignor Bertolone, la mafia non si sconfigge se non cambia un certo modo di intendere la politica, ma ancor più se non cambiamo tutti noi. È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre. La lapidaria battuta che Luigi Pirandello mette in bocca ad uno dei protagonisti del suo Il Piacere e dell'Onestà, ho voluto diventasse l'incipit della mia riflessione in questa giornata particolare dedicata alla memoria delle vittime della mafia e da quello al principio, la legalità, di cui si avverte sempre più il bisogno in un contesto in cui crescono paura ed omertà. Lo ha detto il Vescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, intervenendo sul tema la legalità nel Magistero della Chiesa in occasione della seduta della Commissione regionale contro l'Andrangheta. In particolare, il 21 marzo, ha aggiunto il Lepresule, è, e deve divenire ancora di più, il giorno in cui interrogarsi sulla necessità di trasformare la memoria in impegno quotidiano per liberare definitivamente le nostre terre dalla violenza dell'Andrangheta. Per Monsignor Bertolone, legalità, iniziativa e creatività sono le regole da scrivere e interpretare in senso dinamico che chiedono spirito di iniziativa e creatività da parte dei cristiani, i quali, pur non essendo del mondo, sono nel mondo, nei quartieri, nelle città e negli stati. Educare la legalità, ha sostenuto ancora il Presule, significa in definitiva anche elevare la voce e protestare contro tutti i miti, le violenze, i dispotismi, significa condannare tanto l'egemonia economica del capitale quanto la dittatura di classe, ammonendo che la vera democratizzazione dell'economia è minacciata sia dal monopolio, ossia dal despotismo economico di un anonimo conglomerato di capitale privato che dalla forza preponderante di moltitudini organizzate è pronta a usare delle loro potenze a danno della giustizia e del diritto altrui. Accanto alla protesta e alla condanna, la proposta, anche tecnica, risolvere alcuni problemi con l'intervento dello Stato, la difesa del diritto universale di voto, l'orientamento del voto dei cattolici verso quei candidati o quelle liste di candidati di cui si ha la certezza che rispetteranno e difenderanno l'osservanza della legge divina e i diritti della religione e della Chiesa nella vita privata e pubblica. È indispensabile, ha asserito ancora Monsignor Bertolone, che tutta la società civile e la Chiesa rilancino il concetto di legalità, non nel senso stream in situ della pura e imprescindibile osservanza delle norme giuridiche, ma come espressione di nuova etica pubblica che faccia ben comprendere che le leggi vanno fatte col cuore e col cervello e dopo osservate da tutti.